Oh ragazzi, questa sosta mi sta uccidendo, non vedo l'ora che viene l'altro fine settimana. Come rovinare un fine settimana? Togli le partite a tutti. Cioè, una volta che abbiamo aspettato tutto il calcio mercato, noioso, quel pezzetto di estate che non finisce mai, arrivano le partite, prima giornata, seconda giornata, zack, te lo bloccano. Ma va... beh, l'avete capito. Detto questo, io vedo che c'è un tanto parlare, non so se l'avete notato fra i youtuber professionisti, non youtuber ragazzi, e giornalisti, giornalisti di Aria Milan, di questo, incominciano a essere così, si piangono addosso e mi da un po', incomincia a dare un po' di fastidio. Oggi ho visto un famoso giornalista di Aria Milan, famosissimo giornalista di Aria Milan, e dire Signori me, qua parlano tutti male del Milan. Noi abbiamo preso Rebic, Rebic è l'attaccante della Croazia, in qualsiasi altra squadra andrebbe bene, sarebbe chissà che, ne parlerebbero, arriva da noi, è già scarso, eccetera, eccetera. Questo è vero, questo è vero che c'è questa nomea, ma il punto di questo trend sul Milan è perché il Milan ha fallito troppe volte. Ha fallito anche a Udine, cioè ieri ha fallito a Udine e Giampaolo per fare un 1-0 stentato con il Brescia, ha dovuto rivedere la squadra dopo 40 giorni che l'aveva. Giampaolo che dice, sono un integralista, se non ti sei allenato con me non giochi. Ora, se arriva a Modric, giochi. Lukaku è arrivato, ha giocato, tutto il pubblico contento, allenatore contento, i compagni contenti, quattro gol a Lecce e via. Dopo ha giocato col Cagliari. Anche questa storia qua, sono stranezze da Milan, che non c'entriamo niente noi che commentiamo. non è un commento da parte nostra, nel senso gli altri giornalisti o youtuber o quelli che sia, o opinionisti, tutto quello come li volete chiamare, parlano male del Milan. È il Milan un po' che se li tira però, ragazzi. È in questo momento il Milan un po' che se li tira certe situazioni. Beh, Leo, 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 ok, Leo, si chiama Leo e in Italia si chiama Leo. Leo, a 19 anni, 35 milioni, lo prendi, è il tuo acquisto più importante. Panchina, panchina. Cioè, te li tiri tu. Non è che prendi Lukaku e lo metti in panchina. Non è che prendi Cristiano Ronaldo e lo metti in panchina. Cioè, se quello è... Anche il Lecce, non so qual è il campagna di acquisti del Lecce, ma se il Lecce prende il numero uno nel suo calciomercato e spenderà un milione, due milioni, che per Lecce saranno tantissimo, non lo metti in panchina, non lo compri altrimenti. Se avevi 35 milioni per Correa messi nella tasca, che fino hanno fatto quei 35 milioni per Correa? Sono rimasti nella tasca? O non c'erano mai stati? Cioè, non è che sono gli altri a parlare male. Se arrivi a Udine e fai una figura veramente... Zero tiri in porta. L'unica squadra nei cinque campionati che fa zero tiri in porta. Dovresti dire, ok, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nella gestione del Milan. Il Milan è passione. Il Milan è passione. Passione di tante persone che tifano Milan. E che hanno vinto praticamente l'altro ieri. Non dico ieri, ma l'altro ieri. Hanno vinto. Sono stati sul tetto del mondo per tanto tempo. Cioè, dopo ti presenti con una squadra così. Non sono gli altri a parlare male. Non sono gli altri che parlano male del Milan e perché vogliono parlare male del Milan. Anche questo calciomercato. C'era Sensi. Il Milan era su Sensi prima dell'Inter. Molto prima dell'Inter. L'Inter ha fatto un'offerta un po' più alta. Cinque milioni in più. E è scappato via. Veretut. Vi ricordate Veretut? Era del Milan. La Roma è arrivata. Due milioni in più. Ma lo prendo via. Tutto questo scappare ogni volta da qualsiasi... Come dire... Concorrenza nel mercato. È scappato via sempre per, alla fine, arrivare a 50-40 milioni, 35 milioni in tasca per Correa. Che neanche lo prende. E chi prende? Prende Rebici. Questo è un buon colpo. Rebici è un buon colpo. È un buon colpo. Questo lo diciamo. Anche se sono interisti. Io lo dico. Rebici a me, secondo me, è un buon colpo. Farà bene al Milan. È tutto il Milan che però non farà bene. È tutto il Milan che non farà bene. E io vorrei vedere ste cazzo di partite e non stare qui a partire. Cioè, questo è il fine settimana. A me sta sosta. Me la devono togliere dalle scatole. Anche perché il Milan... Sarà interessante, Verona-Milan. È una partita molto interessante perché il campo di Verona, storicamente, per il Milan è un campo astruso. È un campo antipatico. E questo è per il Milan. Questo riguardo il Milan. La Juventus invece non si... Ovviamente la Juventus non si può piangere addosso come stanno facendo i giornalisti di aria Milan. Ma la Juventus sta coprendo... E la Juventus è brava in questo. È molto brava. Sta coprendo il fatto che... Sarri è mancato per vie personali di cui non voglio parlare. Ma sta coprendo questi esuberi che sono esuberanti. L'esuberanza viene da questo. Troppo. Il troppo. Quello spiegatoio è esuberante. C'è troppa gente là dentro. C'è troppa gente. Hai 20-22 giocatori che potrebbero giocare. Che potrebbero essere tutti titolari. Cioè, ma chi andrà in tribuna? Ormai ho capito. Emme Khan e Mazzucchi ci andranno in tribuna. Perché ormai li getti fuori completamente. Non li tieni là. Ho letto l'articolo della Gazzetta in cui dicevano sì, ma Sarri non è di bocca dolce. Sarri non sta lì a fare il diplomatico. Sarri dice io voglio avere 16 giocatori. E sono che ne hai 24. Quindi 8 di quelli che fai? A Di Bala lo metti sempre in panchina? Cioè, a Di Bala lo devi mettere sempre in panchina. Ma gli fai la turnover. Sarri non è da turnover. Betancourt nazionale uruguayano ottimo giocatore lo lasci così com'è. De Litt solo perché Chiellini si è infortunato ma già De Litt vi ricordate? Aveva incominciato l'allenatore dell'Olanda avevano incominciato a parlare un po' tanto di questa situazione che non piaceva. Si è diradata quella nuvola semplicemente perché Chiellini si è fatto male. Al centrocampo un rabbio Ramsey. Cioè, che sono venuti a fare? Ma tu i di? Cioè, troppi giocatori. Questo può essere un punto debole della Juventus. In campionato, stranamente. Paradossalmente in campionato. Ma questa Juventus la vedo bene in Europa. La vedo bene in Europa perché è piena di personalità. Mi ricorda il Real Madrid della decima quando ha vinto la decima coppa e l'undicesima coppa. Era piena, imbottita di campioni fece tanto bene prima Ancelotti se non ricordo male subito dopo Zidane fecelo bene fecelo benissimo anche se era imbottita ai giocatori. Alcune volte succede alcune volte si riesce in quella maniera. Sul campionato il campionato, vedete, è lungo ci sono gli infortuni statisticamente ci sono sempre gli infortuni quindi qualche posto si libererà per la Juventus il punto è che se lo spogliatoio parte male se lo spogliatoio parte scazzato tutti contro tutti ne vedremo delle belle. Quindi abbiamo detto il Milan si piange la Juventus che copre copre qualcosa l'Inter sull'Inter che vogliamo dire forse è un po' corta forse è un po' corta l'Inter forse è un po' corta abbiamo parlato di infortuni ci sono degli infortuni per l'Inter che sarebbero pessimi sarebbero pessimi perché infortuni spesso non ne hai uno solo devi essere affortunato di averne uno solo ci sono periodi in cui ne hai uno due o tre insieme è un po' corta e neanche tanto corta l'Inter per essere la squadra più cool migliore quella che ha più ha pompato più entusiasmo ha pompato anche soldi allenatore nuovo c'è tanto l'Inter da vedere il banco di prova è quando iniziano le coppe come si comporterà che livello quello sono curioso oggi facevo una ero lì il venerdì facevo un po' di conti di statistiche l'Inter può passare contro Barcellona e Borussia può passare però deve raccontare anche a se stessa che Inter è perché noi non lo sappiamo in Europa che Inter è non lo sappiamo non lo sappiamo e non lo sanno neanche loro quindi sarà bello andare a vedere anche questa prima partita che verrà contro Slava Praga comunque sia area di coppa vedere un attimino come giocano vedere cosa succede nello scontro Barcellona-Borussia Dortmund siamo anche lì siamo anche in Champions dopo c'è ovviamente c'è il campionato il campionato in cui Inter Juve Napoli Napoli strano Napoli squadra strana una squadra invece che mi intriga è la Roma la Roma sta montando ragazzi con questo armeno Mitraiken può arrivare può arrivare la Roma ha fatto acquisti alla fine con Cervello non so chi ha mandato via se era da mandare via ma chi è entrato tanto di cappello la campagna acquisti è buona veramente buona quindi ne vedremo tanto ma vedremo vedremo invece di stare qui con questa sosta io domani vado allo stadio domani vado allo stadio a vedere la partita di Serie C2 Leighton e Swindon volevo fare un video io ho già fatto un video quando sono andato a vedere il Dagger Red ma non so come funziona qua il diritto d'autore sulle immagini se puoi fare le immagini se puoi proiettare le immagini all'interno dello stadio una secca dura non lo so non lo so non lo so non voglio fare neanche un video monco a metà tipo fuori dallo stadio non so io voglio parlare voglio vedere il calcio giocato voglio vedere le partite le Bundesliga Premier League tutte adesso mi accontento di andare là scommetterò un attimino così per dare un po' di sale alla partita ma finisce là è carino perché qua vicino 40 minuti di underground di metropolitana arrivi là è praticamente uno stadio strano perché questo stadio dove sto andando è uno stadio in mezzo a 4 palazzine queste palazzine vengono ad angolo quindi mentre tu sei là a tifare tu vedi la tipa che sta stendendo la biancheria i bambini che giocano fuori nel balcone con le biciclette c'è sempre una partita così fra scapoli e ammogliati e invece non lo è uno stadio a 12.000 posti è uno stadio grande però ha questa particolarità che è in mezzo a un plesso di abitazioni praticamente signori era tanto per stare un po' con voi il piacere di rivedervi e rivederci così utilizzando questo canale come al solito iscrivetevi la litania allora iscrivetevi link commento condividete e soprattutto ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao ciao